Perché il pistacchio chiuso, vedete, col piccolo buchino così che te apri non si riesce ad aprire, è come la chan-challa, la chan-challa, ripeto, quando è ancora larva, il pistacchio chiuso non si può mangiare, neanche con i denti, il pistacchio chiuso è anche più buono del pistacchio aperto, è come la chan-challa appena, quando è ancora nuova, il problema del pistacchio chiuso, rompete il guscio e assaggiate come il pistacchio chiuso, la chan-challa,